chi sono? lei Sabrina Salerno lui? oddio non riesco a fare uno sforzo e somiglia moltissimo a me eh si dice che ognuno di noi abbia sette soci nel mondo quindi magari e allora io prima meno te poi passo agli altri sette brutto bugiardo stavi accantà boys 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 mentre io servivo la parmigiana di melanzane a tua zia che sarà pure in installazione ma da vede quanto magna ma amore perché ti arrabbi era il bonus quindi ci hai scopato ma ti pare al primo appuntamento ma quale appuntamento era un gioco era uno scherzo tra di noi non avevo capito ecco adesso lo so ho capito era uno scherzo lo so ecco mu lo sai ma tu sei fatto così ci facciamo male no tu ti fai male traditore schifoso amore calmati 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 non ti voglio più vedere vattene da quella lì non c'è niente tra i miei stabili abbiamo solo fatto un featuring che avete fatto un featuring un duetto ah un duetto ma lo do io forse duetto è arrivato uno a te e uno a tuo presepene amore il presepene è sacrileggio però eh è sacrileggio il presepene a che mi stai tirai le regole oh vattene amore ho dimenticato lo zene grazie amore ciao sapevate che nel film una notte da leoni del 2009 all'attore ed haelms mancava davvero il dente che perde nel film in realtà lui aveva un impianto permanente da quando era un adolescente che gli è stato temporaneamente tolto per girare le scene in cui poi lo perde ecco perché è così realistico lo sapevate fatemi sapere nei commenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi cliccando qui sotto e la campanellina per ricevere le notifiche ciao da vaneria